Radio Mezzolitro International oggi vi propone questa meravigliosa coroncina al modico prezzo di un milione di euro. Potete venire ad acquistarla perché è un modello Radio Mezzolitro International, direttamente dalla diretta solo per voi, sulle frequenze di Radio Mezzolitro International. Radio Mezzolitro International vi propone oggi per la vostra Pasqua di passione. Ecco a voi un modello che si abbina su tutto, per ogni qualvolta si voglia. Modello passione. Modello Jesus Christ Superstar. Meravigliosa coroncina al modico prezzo di un milione di euro. Vi fate la manicure, vi fate la pedicure, il bagno, la doccia, il bidet. Un milione di euro. Potete venire ad acquistarla perché il nostro coso è semplice, è portabilissima, la potete abbinare su tutto. In questo periodo di quaresima è adatta al periodo. Potete semplicemente indossarla andando a fare la spesa. Potete indossarlo con qualsiasi capo d'abbigliamento, la giacca, il pantalone, la gonna, il verde, il giallo, il rosso, il blu, con un abbigliamento intimo, qual si voglia preferire. E poi potete indossarlo mentre vi fate la manicure, vi fate la pedicure, il bagno, la doccia, il bidet e tutto. Modello Radio Mezzolitro International, direttamente dalla diretta, solo per voi, sulle frequenze di Radio Mezzolitro International.